Docente all'Università di Roma, curatrice di mostra Palazzo Reale, esperta di design, di moda, di turismo culturale e artistico, Varesina d'origine cittadina del mondo, Dalia Gallico ha ricevuto dai Lions Varese Prealpi il Lumen Claro 2019, riconoscimento che da 30 anni spetta a chi, da questa provincia, ha spiccato il volo verso i vertici del talento e delle professioni. Ospite di Palazzo Estense Prima e del Golf Club di Luvinate per il Convivio, accolta dal presidente Marco D'Alfior e dai numeri uno degli altri Lions del territorio, Dalia ha raccontato la propria idea di bellezza applicata al rilancio del sistema paese e indicato nelle relazioni internazionali e nell'apertura mentale la via verso una nuova leadership nostrana. Non è il momento di chiudersi, anzi, proprio perché da un punto di vista di cultura del progetto, l'Italia è ancora considerata maestra, è il momento in cui dobbiamo essere noi portatori ancora di un pensiero, sempre con una visione sicuramente attenta a quello che è il futuro, quindi immagino le nuove tecnologie, quello che un tempo poteva essere solo fantasia che invece adesso possiamo realizzare, ma sempre ben orgogliosi del nostro passato.